Si entra normalmente nelle case come ho fatto stasera perché bisogna essere un pochino più attenti al padrone di casa ma anche a tutte le persone che ci ospite che non passeranno questa serata con noi. Buonasera, ciao. Buonasera. 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 Questa sera siamo a Solbiatolona, a casa di Lucio Ghioldi che ci ha ospitato per l'ottava puntata di Indovina chi porta il caffè. L'industria storica dell'Ottocento e domenica presto infatti faremo la Pesta del Cotto Olimpicio dove partecipiamo anche noi come associazione. La pizza è la cosa che fa, vi ho avuto un servizio in 10 minuti per raccontare il progetto di eredito, il progetto di eredito, il progetto di eredito mondale. Uno dei nostri obiettivi è quello di ecologico dal punto di vista ambientale. Noi siamo un'associazione culturale e ambientalista. Abbiamo avuto finora diverse persone, siamo molto piacevoli perché è un po' di eredito. Oltre a me, il vice direttore Michele Mancino ha avuto un'associazione culturale che si occupa della sanità. E' un'associazione culturale che è un'associazione culturale che è un'associazione culturale. E' un'associazione culturale che è un'associazione culturale. Noi sapete dove trovarci, quindi è stato un piacere, ma è un rapporto che chiaramente non si interroga. Grazie, grazie. Ci siamo andate. Sì, 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 Andrea. Allora ci tenevo. Grazie, gentilissimo. Suoniamo però per l'inizio del sabato in occasione di una cosa che vorrei andare in Italia.